Sei indietro con gli esami? La laurea non riesci a vederla neanche con un cannocchiale? La tua vita fa schifo e passi tutto il giorno a studiare? Salve, sono Fulvio McClure e sono qui per risolvere i vostri problemi. Forse vi ricorderete di me per alcuni capolavori cinematografici, come vicoli lastricati con mattonelle di zucchero e non che me ne fotta un cazzo del tuo pavimento. Ah, è la terza volta che non riesco a studiare l'esame di diritto privato, è un guaglio. Ah, non dirmi che ormai ho fatto la casa davanti al professore. Non so sempre l'occhio. Ragazzi, non vi preoccupate. Da oggi i vostri problemi sono finiti. Passate alla prestigiosa Università delle Banane. A tutti i nuovi iscritti regaliamo 10 CFU e ogni 20 CFU acquisiti ve ne regaliamo altri 5. E se non bastasse, l'Università delle Banane ti offre altre incredibili promozioni. Non riesci a passare un esame? Con soli 50 euro al CFU puoi comprarlo comodamente da casa tua, anche a rate. E inoltre, se ti iscrivi prima di Natale, potrai usufruire della speciale promozione Esami sotto l'albero. La mattina del 25 dicembre potrai convalidare un esame a tua scelta. Cosa aspetti? Iscriviti anche tu all'Università delle Banane, l'unico Ateneo che ti permette di laurearti senza fare un cazzo. E in più, avrai in omaggio questa simpatica t-shirt.